Friultrota è l'azienda che ha permesso alla nostra regione di diventare leader della produzione di trota in tutta l'Europa, è una delle tre regioni più importanti e in assoluto la leader in Italia. Perché è quella che ha aperto la strada all'innovazione di un prodotto, di un pesce che era un po' sottovalutato. Fu il papà di Mauro, che è l'attuale titolare, a creare l'azienda nel 1984 e c'è una sua frase molto importante che dice che una trota per essere buona deve essere una buona trota. Sembra una frase banale ma è il concetto essenziale della filosofia di questa azienda. Se San Daniele ha come re il prosciutto adesso anche la regina, che è proprio la regina di San Daniele che è il prodotto più forte, più importante, il brand più importante di questa azienda, che è una trota affumicata. Ma perché la trota in quella zona e perché noi siamo diventati leader di qualità oltre che di quantità in tutta Italia e in Europa? Perché la base della trota è l'acqua, la purezza dell'acqua. Noi abbiamo una fortuna e nella nostra regione, in particolare tutta la pianura, che è appoggiata su una grande ciambella d'acqua purissima, che sono le acque di Risorgiva. Sono acque profonde che sgorgano spontaneamente a 12 gradi di temperatura tutto l'anno. Pensate che negli acquedotti la sentinella antiterrorismo che c'è sempre presente è la trota. Se la trota comincia leggermente ad agitarci o dare i numeri è il primo esempio che qualcosa non funziona. Quindi l'acqua è essenziale, sta solo dove l'acqua è purissima. Detto questo, per fare un prodotto eccellente come quello di Friul Trota servono anche la densità di popolazione, quindi di pesci che sono in un metro cubo. Pensate che per i salmoni che vengono alimentati molto spesso con prodotti non proprio con gli ormoni anche, per crescere velocemente, sono 50 kg per metro cubo. Loro lavorano a San Daniele con 10-15 kg per metro cubo, quindi la trota deve nuotare, deve muoversi e deve sempre andare controcorrente. Ecco perché è importante l'acqua di Risorgiva. Poi la grande innovazione dell'azienda è di preparare il prodotto. Preparo già spinato con delle declinazioni, una serie di declinazioni, ormai oltre 15 le proposte sulla trota che voi potete prendere sotto vuoto. Durano in frigorifero, si mangiano e sono sanissime perché contengono un'alta percentuale di omega 3 che sono i grassi benefici alla nostra salute. Hanno anche un laboratorio pubblico e soprattutto c'è un centro per fare dei corsi di cucina e spiegarvi quante ricette si possono fare partendo dalla trota. Friul Trota a San Daniele.